cari amici di esclusi come tutti i giovedì ci troviamo in un posto speciale della nostra città oggi siamo su piazza santissima annunziata come vedete davanti ai vostri occhi una delle due splendide fontane del tacca famose anche come le fontane del cacciucco perché uniscono tante tipologie di mostrilli quasi come si uniscono tanti tipi di pesce per questa famosa zuppa ma la nostra indicazione di oggi è soprattutto rivolta al ricordo di questa piazza come la piazza dove è la ruota questa ruota degli innocenti che fa parte appunto di questo complesso straordinario realizzato da Brunelleschi nove archi che sorreggono un portico con volte a vela con affreschi del poccetti oggi a via della colonna si vede la finestra ferrata la famosa ruota dove dal 1445 anno di apertura dell'ospedale i bambini neonati abbandonati potevano essere lasciati e venivano presi in cura dalle suore dell'ospedale 4 5 5 6 7